Buongiorno a tutti e a tutte dalla redazione Coreporters di Olmedo. Io sono Laura Dedola e oggi mi trovo in compagnia dello scenografo Fabio Loi, che insieme ai nostri compagni e compagne nelle classi prime e seconde ha realizzato il nostro studio televisivo. Buongiorno Fabio. Buongiorno, ciao Laura. Quali materiali avete utilizzato? Abbiamo utilizzato tutti quei materiali che in genere voi buttate via, quindi la mondezza, i vecchi cartoni, la carta, la plastica. Quanto è importante il riciclo nel tuo lavoro? È importantissimo perché attraverso proprio questi materiali che gli altri appunto butterebbero via, invece noi realizziamo delle vere e proprie opere d'arte e di scenografia. C'è un materiale di scarto che per te è un vero tesoro? Sì, il cartone. Infatti il materiale più usato in questa scenografia è proprio il cartone e tutte le varianti del cartone. Cosa ci costruisci? In genere realizziamo proprio dei supporti che poi andremo a dipingere, a colorare con i bambini e le bambine e realizzare appunto una scenografia molto colorata. Grazie Fabio Grazie a te Laura, sei stata gentilissima Ciao e alla prossima Grazie a te Laura Grazie a te Laura Grazie a te Laura